Salve da Giochiero Stassi, vi parlo dagli studi della Press Music di Palermo, per annunciarvi che tra un poco vedrete un video che riguarda un'emittente radiofonica che si trova in Belgio, Radio Nuova Napoli, un salutone va al direttore Massimo Donchene, a tutto lo staff, a tutti i collaboratori di Radio Nuova Napoli, un ringraziamento in particolare va a Ignazio Caracausi che ha curato gli arrangiamenti di questo brano, agli artisti che hanno prestato la loro voce a questa canzone e alle riprese video di Carlo Macaluso e lo studio editing di Palermo. Quindi io vi auguro una buona visione, Radio Nuova Napoli. Ore e ore di musica, canzoni e dediche, siamo noi, sempre noi per voi. Con Massimo Donchene, dal Belgio trasmettiamo, noi DJ sono per voi, per passione e amore. Radio Nuova Napoli, la nostra frequenza del cuore, Radio Nuova Napoli, per chi ama la buona musica. Per chi sta solo senza compagnia, per chi sta solo senza compagnia, per chi si è innamorato e sogna con una canzone. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. A caso in macchina, non vi lasciamo mai, un ospite solo per voi, da Napoli o Sicilia. Non ci stanchiamo mai, di regalarvi musica. Radio Nuova Napoli, la nostra frequenza del cuore, Radio Nuova Napoli, per chi ama la buona musica. Per chi sta solo senza compagnia, per chi sta solo senza compagnia, per chi si è innamorato e sogna con una canzone. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Radio Nuova Napoli, la passione che nasce dal cuore, Radio Nuova Napoli, sempre con voi. Noi di te